max missione compiuta oggi giocare bene forse contava il giusto oggi bisognava vincere si oggi c'era un obiettivo unico era vincere e continuare la serie ci siamo riusciti una prestazione non bellissima secondo me così e così ma va bene poi nel playoff è difficile giocare benissimo sempre l'importante era vincere ci siamo riusciti siamo contenti e basta la nostra avventura continua un po di tensione da playoff forse un po oltre la tensione da playoff un po oltre la tensione di playoff però insomma dicevo prima quando tu vieni provocato per tutta la partita soprattutto in casa tua poi reagisci quando ne abbiamo perso settimana settimana scorsa si abbiamo portato a casa qui in casa nostra insomma bisogna stare un po più calmi e abbiamo vinto niente quando noi quando non abbiamo perso abbiamo sempre preso e portato a casa e bisogna fare così senti duffiamoci un po in questa semifinale anche perché tre giorni e siamo di nuovo qua semifinale tostissima esatto il tempo di farlo già si gioca di nuovo semifinale tostissima contro una squadra che è tornata in condizione come modena che semifinale ti aspetta allora io mi ricordo l'anno scorso è successa la stessa cosa a trento difficoltà durante l'anno poi sono arrivati alla fase calda e sono arrivati in formissima io non avevo dubbi ma perché se uno guarda da partire dall'allenatore poi giocatori insomma è una squadra ad altissimo livello poi per forza una squadra arriva prima una seconda una terza non incontra più difficoltà dell'altra ma una squadra di assoluto livello l'ha dimostrato nelle due gare contro Milano ci sarà da soffrire ed è giusto che sia così perché altrimenti non sarebbero i playoff più belli del mondo l'ultima cosa quanto può contare questo palazzetto ma il palazzetto conta conterà tantissimo già l'anno scorso abbiamo dimostrato nel più abbiamo perso sempre fuori e vinto sempre in casa ci mettiamo la firma è anche quest'anno magari e conta conta tanto altrimenti non si farebbe di tutto per per vincere la regola si punterebbe al terzo quarto quinto posto invece si punta al primo perché è importante poi non conta solo quello perché alla fine sempre il rettangolo tricolore che che decide grazie max